Oggi il Governo ha presentato ben 22 emendamenti tra sostitutivi, aggiuntivi e modificativi, richiamando l'articolo 117 che fa riferimento a delle correzioni di forma. Queste sono delle alterazioni di sostanza, per cui noi siamo fortemente contrari. Questa è la presentazione di tutti questi emendamenti. Io in sei anni e mezzo di attività parlamentare non avevo mai visto che una legge potesse essere modificata in tutti i suoi articoli e con un consistente numero di emendamenti, modificativi, sostitutivi o addirittura aggiuntivi, per cui noi chiederemo al Presidente Ardizione di ritirare assolutamente tutti questi emendamenti, di non ammetterli. È la migliore riforma possibile approvata dall'Assemblea Regione Siciliana. A nostro avviso si poteva fare di meglio. Però credo che l'istituzione Liberi Consorzi dia un grande ruolo ai sindaci, che sono coloro i quali rappresentano le istituzioni in maniera più vicina ai cittadini e questo penso sia un fatto molto positivo, riducendo i costi della politica, sostituendo gli organi di primo livello eletti dai cittadini con organi di secondo livello eletti dai sindaci e dai consigli comunali, riducendo e semplificando le strutture organizzative sul territorio e apportando dei risparmi significativi alla spesa. Dopo un anno di andare avanti e indietro, di passo del gambero, finalmente arriviamo a un punto fermo che in realtà è il terzo punto fermo, il prossimo sarà quello della legge definitiva che attribuirà le competenze. Comunque oggi si aboliscono le province. Il governo in realtà in tutta questa legge è stata abbastanza inefficace e assente. La legge è nata all'interno del Parlamento con il dibattito parlamentare in cui poi ogni gruppo parlamentare ha assunto le sue posizioni. In questo momento c'è una maggioranza all'interno del Parlamento che è favorevole a questa legge.